Uomini e donne gossip news, Gemma Galgani nei guai con la De Filippi? La rivelazione, Gemma Galgani è finisce nei guai con la padrona di casa di Uomini e Donne, Maria De Filippi, è questa l'ultima clamorosa indiuscrezione di queste ore, che arriva dal mondo dei protagonisti over del dating show di Canale 5 che continua a riscuotere grande successo in televisione soprattutto con le puntate dedicate al trono over. Eppure gli ultimi atteggiamenti di Gemma Galgani hanno scatenato non poche polemiche in studio, al punto che nel corso dell'ultima registrazione ci sarebbe stata una sorta di rivolta da parte delle altre dame del programma, che si sono schierate duramente contro la Galgani. Bufferà Uomini e Donne, polemiche contro Gemmas, perché le gossip news su Uomini e Donne rivelano che Gemma non ha alcuna intenzione di arrendersi all'idea di aver perso per sempre il suo grande amore Giorgio Manetti, che qualche settimana fa l'ha rifiutata per l'ennesima volta. Gemma, infatti, ha avuto il coraggio di confessare a Giorgio il suo amore e gli ha detto esplicitamente che ad oggi prova ancora un forte sentimento nei suoi confronti peccato, per, che la Galgani non sia stata ricambiata ed ecco che ha dovuto fare i conti con l'ennesimo due di ricche che le è stato rifilato. Le anticipazioni su Uomini e Donne, per, rivelano che questo rifiuto non ha fermato per niente Gemma, la quale prosegue la sua battaglia e sostiene che al più presto riuscirà a far capitolare Giorgio ai suoi piedi, convinta che prima o poi anche lui confesserà di essere ancora innamorato di lei. Questo comportamento di Gemma, per, ha fatto infuriare tutte le altre donne, che affollano il parterre del trono verde del programma di Maria De Filippi, le quali sostengono che in questo modo la Galgani non sta facendo altro che umiliarsi perché si sta facendo calpestare la dignità da quest'uomo, che a quanto pare non sa più come dirle che non vuole ritornare con lei. Gemma verrà cacciata da Uomini e Donne, e Cos, le altre protagoniste di Uomini e Donne hanno mosso un duo appello contro la damma torinese, facendole presente, che in questo modo sta diventando ridicola e non fa altro che fare del male a se stessa e anche alle altre donne, che la guardano da casa, e che magari la prendono come modello da seguire perché ormai Gemma è diventata un personaggio pubblico a tutti gli effetti. La Galgani, infatti, è stata tacciata di essere un pessimo esempio per le donne, che la seguono da casa e proprio questa grave accusa potrebbe indurre anche la De Filippi a prendere un serio provvedimento nei suoi confronti, questa volta Gemma rischia di essere cacciata dal programma, Uomini e Donne News Gemma e Giorgio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.